buongiorno oggi vi faccio vedere come preparo un sugo veloce in salsa rosa con i legumi allora ho messo la padella e visto metto l'olio ecco uno spicchietto d'aglio e faccio rosolare qualche minuto questo è un sughetto molto buono è fatto con i ceci questi sono i miei ceci che ho cucinato eccoli qua che ho fatto li ho passati li ho passati perché così li mettono il sughetto e il sugo diventa rosa pavoloso e poi togliendo tutte le bucce sono molto digeribili sono molto buoni ecco il live si è rosolato vado a mettere 3 mestoli di di pomodoro appena passato pomodoro fresco perché adesso è periodo di pomodoro fresco ma si ammazza così si fa in fretta e adesso passo i ceci con la pasta maglia fine così resta tutta la buccia resta dentro e viene veramente un buon tubo a parte che lo faccio anche con i cecinteri e quando sono corti però questo è veramente eccezionale ceci danno un buon sapore al sugo e alla pasta viene una pasta veramente squisita mettono un pochino d'acqua ci vogliamo la penita eccoci qua allora in dieci minuti questo sugo è pronto è perché i ceci sono pronti erano già cotti deve solo cuocere il pomodoro il pomodoro in dieci minuti si cuoce a fiammata e quando è pronto tutto pronto si mette il sale e si spegne vedere quanto è bello ci vuole un pochino di pazienza che si cucina ci vuole un pochino di pazienza che si mette il problema tutto questo sugo è un pochino di pazienza che si mette il problema